Buongiorno a tutti, oggi preparo una pizza pasquale, diversa dal solito. La faccio con i peperoni, la ricotta e le uova. Mi occorre per l'impasto 600 g di farina, di cui 300 g 1 e 300 g 0, 600 g di acqua, 10 g di lievito di birra fresco, 6 g di sale, un cucchiaino di miele, 30 ml di olio, per il ripieno 800 g di peperoni, già puliti e fatto a pezzettini, sale e olio quanto basta, 100 g di cipolla, 300 g di ricotta e 5 uova. 300 ml di passato di pomodoro. Inizio la preparazione e preparo l'impasto. Mischio le due farine. Sbriciono il lievito di birra nella farina. Metto il cucchiaio di miele. Ora metto acqua e mischio un poco. Metto l'olio. Ancora acqua. A questo punto metto il sale e continuo ad impastare con le mani. Una volta impastato lo lascio lievitare fino al raddoppio del volume. Nel frattempo che lievita la pizza preparo il ripieno. Metto l'olio nei peperoni, il sale, la cipolla e metto anche un po' di sale sulla cipolla. Mischio un poco. Guardate che bei colori! Il giallo e il rosso del peperone e il bianco della cipolla. Ora porto sul fuoco. Ho messo sul fuoco e faccio cuocere. Dopo 15 minuti di cottura aggiungo la passata di pomodoro. Ora faccio cuocere altri 10 minuti, spengo e faccio raffreddare. Raddoppiata di volume, metto un po' di farina sulla spianatoia e la verso sopra. Allargo l'impasto con le mani. E divido in due. Sempre aiutandomi con un po' di farina, mettendo l'impasto. Con un pennello metto dell'olio in una teglia di 32 cm di diametro, nella quale metto l'impasto. La base della pizza è pronta. Ora preparo il ripieno. Ai peperoni aggiungo la ricotta e mischio. A questo punto metto sopra la base della pizza. Distribuisco. E faccio gli incavi per le uova. Una alla volta rompo l'uovo in una ciotola e lo metto per ogni incavo. Ora preparo la parte di sopra. Ora stendo l'altro impasto. A questo punto faccio dei buchi con una forchetta. Una volta pronto lo metto sopra. E faccio con bocciare i lembi. Ora con la forchetta bucherello anche i bordi. Spennello dell'olio in superficie. A questo punto lascio lievitare per un'altra mezz'ora e poi vado ad infornare in forno caldo e statico a 200 per 40 minuti. Una volta cotta la tagliamo. Ed eccola pronta da gustare. Grazie della visione. Alla prossima. Iscrivetevi al canale, condividete e mettete mi piace. Alla prossima.